Ciao raga, sono Pietro e ben ritornati in questo nuovo video. Oggi purtroppo è il mio quarto, non purtroppo, però è il mio quarto episodio del calciomercato ma prima voglio parlarvi di una cosa molto brutta perché che ho sentito ieri infatti l'Italia è un giorno che non dimenticherà mai perché una data storica che non dimenticherà mai l'Italia infatti purtroppo è morto Silvio Berlusconi all'età di 86 anni ha vinto 29 trofei con il Milan poi tipo 5 Champions ha vinto una Coppa Italia, 29 trofei in 31 anni, un sacco poi voglio dirvi che quindi mercoledì ci saranno i funerali alle 3 in piazza Duomo l'ho letto su Sky Sport 24 e niente, quindi io purtroppo ieri non ho fatto il video perché ho avuto degli impegni però capisco purtroppo com'è la situazione, com'è il povero Berlusconi ma Berlusconi a parte oggi sono per dirvi, per parlarvi di calciomercato adesso vi dico alcune notizie però prima iscrivetevi al canale, attivate la campanella se volete un altro episodio, il quinto episodio e sigla, ah aspettate perché dovete lasciare un bel like per supportarmi e attivate la campanella, non so se ve l'avevo già detto vabbè adesso seriamente sigla il calciomercato di Pietro allora ho letto che all'Inter piace, piace, ieri ho letto che all'Inter piace Koulibaly quindi potrebbe tornare in Serie A poi cosa ho letto, ve l'avevo già detto negli episodi precedenti che la Roma piace Scamacca ecco, poi è arrivato anche un giocatore che non mi ricordo come si chiama clamorosa offerta di Luis Alberto per, dall'Arabia Saudita clamorosa offerta per Luis Alberto e poi si deciderà il rinnovo del contratto con i Zaghi e con l'Inter e a proposito di allenatori, poco fa ho letto, ce l'avevo già sentito nei giorni scorsi che Paolo Sosa è indicato, cioè non è indicato, è uno degli allenatori che può andare nella panchina del Napoli perché è uno dei sospettati tra virgolette ecco, e niente queste sono le news di mercato e poi io vi ricordo che il giuntoli non verrà la Juve poi ci sta discutendo, l'ho letto poco fa sempre con Luca Vasquez del Real Madrid ah, poi per la Roma è fatta per il difensore Evan Dica rinnoverà un contratto per cinque anni ed era in scadenza con l'Eintracht Frankfurt e niente, poi guardate come vi dicevo nelle prossime ore è previsto il contratto con i Zaghi poi è previsto anche Summit con il Chelsea in settimana Scamacca-Roma c'è già l'ok del giocatore Aldo Heil offriva l'offerta araba per Luis Alberto poi al Milan piace Nelson dell'Arsenal e poi credo a parametro zero, ho sentito e niente quindi, ecco raga queste sono le news di mercato se volete il quinto episodio iscrivetevi al canale e attivate la campanella ma soprattutto lasciate un bel like al video e niente, quindi mi dispiace ancora per Silvio Berlusconi e dal vostro Pietro è tutto ciao